La Cina potrebbe scipparci l'automotive fiore all'occhiello d'Abruzzo se non si farà una revisione della produzione nelle aziende. Dal 2035 infatti non saranno più acquistabili le auto a benzina e diesel, quindi si deve essere pronti. Così il serretario generale dell'UGL Capone nel presentare la collana Pensiero Sindacale parla anche della situazione economica nella nostra regione. Purtroppo c'è un'inversione di tendenza su quello che noi intendevamo l'automotive. Il motore a combustione è stato vincolato nel tempo e questo comporta una revisione del tipo di produzione. Immaginando già la semplicità del motore elettrico possiamo pensare che il numero di addetti per macchina costruita sarà sicuramente inferiore. Mentre sul motore, sulle carrozzerie, sulle tecnologie di costruzione delle macchine tradizionali eravamo all'avanguardia e siamo all'avanguardia ancora, sui motori elettrici e sulle strumentazioni dei motori elettrici siamo invece in difficoltà. Questa difficoltà è dovuta al fatto che la Cina per esempio è produttore degli accumulatori e dei generatori di elettricità. Su questo bisogna fare molte riflessioni perché rischiamo di farci scippare anche questo settore in Abruzzo che porterà un abbassamento dei livelli occupazionali e ovviamente uno squilibrio sociale su tutto il territorio. A proposito del periodo di crisi, cenno sulla finanziaria del governo Meloni. Per quello che riguarda il merito, poverina è capitata nel momento peggiore del mondo, della storia italiana sicuramente, perché la finanziaria è stata scritta dal governo precedente, da Draghi. Il fatto di essere stata eletta e incaricata non più di due mesi fa l'ha costretta a dover utilizzare l'impianto della vecchia finanziaria e trovare qualche risorsa per poter intervenire in autonomia. Questo intervento è stato fatto soprattutto per coprire le spese per aziende e famiglie del maggior costo dell'energia e piccoli aggiustamenti su però argomenti sociali. Tornando sulla collana pensiero sindacale, il segretario generale dell'UGL aggiunge Abbiamo iniziato già con la pubblicazione dei primi quattro volumi. Crediamo che il sindacato oltre a fare il suo mestiere, che è quello della difesa dei lavoratori, dei pensionati, di coloro che vorrebbero lavorare, ha anche un obbligo di produzione, di critica al sistema, al potere, per stimolarlo.